Questo viaggio alla ricerca di Sephiroth ci sta cambiando tutti. Mia madre morì quando ero piccola. Erano tante le cose che non volevo ammettere. Hai mai avuto un sogno? Lutai era la mia casa. Perché volevo aiutare il bravo. Mi ha fatto un'unica paura. Ormai è troppo tardi. Grazie a tutti.